Ciao a tutti, in questo video vi presentiamo l'ABC Colore. Che cos'è innanzitutto e perché è importante farlo? È importante fare l'ABC Colore perché è un percorso, è un corso di formazione che va a costruire o migliorare quelle che sono le nostre conoscenze a livello colorimetrico. Migliorare quelle che sono le conoscenze sulla colorimetria e su come si colorano i capelli ci permette di andare a creare colori migliori rispetto a quelli che facevamo ieri. Fare un colore migliore rispetto a quello che facevamo ieri ci permette di avere successo con la nostra clientela. Che cos'è? È un percorso di formazione che andiamo a sviluppare su quella che è la colorimetria e la conoscenza dei prodotti. È rivolto a titolari e collaboratori di salone con un minimo di esperienza di due anni e andremo ad affrontare varie tematiche. Quale la conoscenza del capello, la conoscenza dei prodotti, tutte le decorazioni, i prodotti principali che Bella costruisce e andremo anche ad affrontare le tecniche base. Quali copertura del capello bianco, applicazione del colore, ripigmentazione e prepigmentazione. Quali sono i vantaggi per quello che è un salone? È accrescere quella che è la cultura sul mondo del colore che ogni giorno si evolve sia nella costruzione dei prodotti ma sia anche nei trend, nelle nuove colorazioni. Oppure avere un collaboratore autonomo che sia in grado di sviluppare e di gestire da solo una cliente. Dalla A alla Z. Quali sono i benefici della cliente finale? Di essere sempre al passo con la moda, di essere sempre a conoscenza di tutti quelli che sono i miglioramenti a livello colore e di andare a risolvere problematiche o eventuali necessità che lei ci porta all'interno del salone. Grazie. Grazie. Grazie.